Ciao ragazzi, ecco il video della mia prima gara in PCC. Mi sono classificato secondo a un soffio del primo posto e questo per me è un risultato importantissimo considerando che era appunto la mia prima gara in questa categoria. Ho voluto fare però questa premessa per evidenziare una cosa molto importante che voglio condividere. Le tecniche da applicare con il fucile sono le stesse che applichiamo con l'arma porta. Questa è la discriminante che mi ha permesso di ottenere subito un buon risultato. Oddio, i primi stage come potrete vedere ho avuto bisogno di prenderci un attimino la mano ma poi è andata via via sempre meglio e la componente tecnica anzi è stata ancora più fondamentale per risparmiare e per fare bene. Vedi gli ultimi esercizi. Lo dico perché continuo a vedere un sacco di gente che spende un capitale in accessori, ottiche eccetera eccetera convinti che questi possono migliorare la propria prestazione ma in realtà è solo la preparazione tecnica e il metodo di allenamento che fanno la differenza. Quindi il mio consiglio è quello di spendere un po' meno e cercare di strutturare invece meglio i vostri allenamenti e questo sarà sicuramente più appagante, più soddisfacente e meno costoso. Qui sotto in descrizione trovate le caratteristiche dell'arma che ho utilizzato. Vi lascio al video. Ciao ragazzi! Tutor, are you ready? Stand by! Fini, shallot. Chocliere, fia, merda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.